Great Wall, primo costruttore di automobili cinese ad essere importato in Italia, presenta il suo nuovo SUV H6, un'auto dalle dimensioni europee che con i suoi pur generosi 4 metri e 64, risulta persino compatta se comparata con il mastodontico Pickup Steed. Grande spazio anche nell'abitacolo dove si viaggia comodamente in 5 e dove c'è spazio a volontà per i bagagli, grazie a una capacità di carico da 800 a oltre 2000 litri. Solo una ha la motorizzazione disponibile, un 2 litri turbodiesel common rail da 143 cavalli e 300 Nm di coppia. Un pochino rumoroso ma adatto a muovere i quasi 1800 kg di massa della vettura. L'H6 è disponibile a due ruote motrici o con la trazione integrale di tipo torque on demand, gestita da una centralina che distribuisce la coppia secondo le esigenze di aderenza tra le ruote anteriori e posteriori. Per il mercato, l'H6 europeo viene assemblato direttamente nella nuova fabbrica di Litex in Bulgaria, da dove usciranno tutti i nuovi prodotti Great Wall per un mercato europeo che vede l'Italia tra i principali mercati. Ci sarà anche la versione due ruote motrici che partirà da un prezzo di listino di 21.900 euro fino ad arrivare al top della gamma delle quattro ruote motrici e come prezzo questo arriviamo poi a 27.000 oppure 28.000 euro.